Cresce la soddisfazione dei viaggiatori della CAP, ma diminuisce il gradimento sulla puntualità delle corse e sul loro numero. I dati sono il frutto di un'indagine di soddisfazione effettuata su 300 viaggiatori nel 2016, che hanno attribuito punteggi molto alti alla comunicazione, ai servizi per disabili, a quelli aggiuntivi, al comfort e all'ambiente. Siamo molto soddisfatti, direi, perché al di là di quelle che sono oggi la crisi di un settore che ha problemi, di quelle che sono risorse per gli investimenti, abbiamo aumentato anche quella che è la nostra capacità di dare un servizio capillare, abbiamo fatto nuova assunzione, abbiamo sviluppato la nostra capacità di attenzione al territorio. Più severi invece nel giudicare la sicurezza e la puntualità del servizio. Problemi che però, secondo la CAP, non sono imputabili alla stessa cooperativa e che hanno fatto perdere comunque il 20% dei trasportati. Dipende molte volte da quelle che sono corsie protette, corsie dedicate, un miglioramento di quello che sono l'attraversamento del centro della città, quelle che sono una maggiore attenzione a quello che è da parte di quella che è l'amministrazione, su quelle linee che da punto di vista dell'attraversamento presentano delle criticità. Richiesa che trovi il consenso anche dell'amministrazione comunale. Le nostre risposte sono di tipo strutturale, abbiamo fatto un piano urbano della mobilità sostenibile che cerca di valorizzare tutti i tipi di spostamenti che non sono l'auto privata. Quindi mobilità dolce, circolabilità, percorsi a piedi, ma anche trasporto pubblico locale, perché una città di 200.000 abitanti non può puntare solo sul trasporto privato, perché le reti a un certo punto collassano. Crescono i numeri della carta mobile che in questi giorni festeggi due anni. Quelle emesse sono state 24.600, le ricariche 30.500, le multiple 100.800, le transazioni online 12.100.